La Gerusalemme liberata è il maggiore poema eroico di Torquato Tasso, composto da ben 15.336 endecassillabi raggruppati in 20 canti di varie lunghezze. Completata nel 1575 viene pubblicata a Venezia, senza l'autorizzazione del poeta, nell'estate del 1580 con il titolo di Goffredo. L'edizione presentava molti errori e soltanto 14 canti su 20. L'anno successivo, sempre lontano dal controllo del suo autore, che, lo ricordiamo, era ancora rinchiuso nell'ospedale di Sant'Anna, l'opera viene pubblicata integralmente e pochi mesi dopo, il 24 giugno del 1581, esce a Ferrara la prima edizione autorizzata da Tasso. Bene, passiamo subito alla poetica, in questo libro, in questo video non parleremo della trama, c'è un altro video dove parlo un po' della trama, ma come già detto concentriamoci sulla poetica. Quindi l'idea di scrivere un'opera sulla prima crociata nasce da due obiettivi fondamentali che si pone Tasso. Il primo è raccontare la lotta tra pagani e cristiani, di nuovo attuale, nell'epoca in cui l'autore vive, e allo stesso tempo raccontarla nel solco della tradizione epica cavalleresca. Quindi molto importante, ripetiamo, primo obiettivo raccontare la lotta tra pagani e cristiani, e il secondo raccontarla nel solco della tradizione epica cavalleresca. Tasso sceglie la prima crociata in quanto è un tema non così ignoto, al suo tempo, da lasciar pensare che gli avvenimenti fossero inventati, ma allo stesso tempo è una tematica adatta all'elaborazione fantastica, che, lo vedremo più tardi, Tasso riteneva necessaria per intrattenere i lettori. Il tema fondamentale è quello epico-religioso, tema che Tasso cercherà di intrecciare con temi più leggeri, senza però sminuire l'intento serio e soprattutto educativo, questo è molto importante, quindi educativo dell'opera. Nel poema si intrecciano quindi due mondi, quello idillico e quello eroico. La parte principale dell'opera è l'assedio di Gerusalemme, difesa da valorosi cavalieri. Da un lato i principali cavalieri cristiani, tra cui, ricordiamo, Tancredi e Rinaldo, dall'altro il re Aladino, Argante, Solimano e Clorinda. Una serie di vicende si intrecciano nell'opera, dove però una tematica fondamentale è sempre presente, cioè il dualismo eroico tra il bene e il male. Come abbiamo già visto, insieme a questo tema eroico, quindi in questo caso il dualismo tra bene e male, Tasso racconta di grandi storie d'amore, spesso tragiche o peccaminose, come se il tema dell'amore sensuale, sebbene contrapposto a quello eroico, fosse necessario e complementare a esso. Quindi, ripetiamo, tema eroico fondamentale, ma allo stesso tempo tema dell'amore sensuale, quindi complementare a quello eroico. Si ripropone quindi quel dissidio irrisolto tra tensione religiosa e amore terreno, a cui la poesia, da Petrarca in poi, si era ampiamente ispirata. Quindi, ripetiamo questo concetto fondamentale, molto importante, dissidio, contrasto, diciamo così, scontro, irrisolto, tra tensione religiosa da un lato e amore terreno dall'altro. Tasso si pone come obiettivo quello di allontanarsi dall'Orlando furioso di Ariosto. per rispettare i precetti letterari stabiliti dalla traduzione dell'opera dal titolo Poetica, opera appunto di Aristotele. In primo luogo, Tasso respinge il cosiddetto meraviglioso fiabesco del romanzo cavalleresco, a favore del meraviglioso cristiano, per cui gli interventi soprannaturali di Dio, degli angeli, ma anche delle creature infernali, fanno parte delle verità di fede. Quindi, mentre il meraviglioso fiabesco era un'invenzione, questo meraviglioso cristiano è una verità, la verità di fede, che prevede appunto gli interventi soprannaturali di Dio, degli angeli e delle creature infernali. Tasso afferma quindi che la poesia può unire al vero il verosimile, a condizione di mantenere una coerenza storica nello sviluppo complessivo delle vicende narrate. La storia narrata, ricondotta nell'ottica dell'intervento provvidenziale di Dio nella sorte degli uomini, permette quindi di realizzare lo scopo educativo che l'opera appunto si proponeva e poi al fine di conseguire il diletto, cioè fine rinunciabile per tasso, cioè fare in qualche modo divertire, intrattenere i lettori, l'elemento meraviglioso sarà anch'esso di impronta cristiana, consisterà, cioè nella partecipazione negli eventi narrati di angeli e demoni. In breve, se in Ariosto la magia è fiabesca, quella di tasso ha un fine, cioè un fine di educare e questo fine è ricondotto al contrasto, all'educare il lettore, al contrasto tra bene e male. In secondo luogo, tasso respinge anche la costruzione formale di Ariosto, caratterizzata dalla molteplicità delle azioni che si intrecciano tra di loro, cosa che comprometterebbe l'unità di azione stabilita dai precetti aristotelici che abbiamo menzionato prima, quindi scritti nella sua poetica, quindi l'opera dal titolo Poetica di Aristotele. Allo stesso tempo, però, riconoscendo che la varietà dei temi è necessaria per dilettare il lettore, al fine di conciliare questa antitesi, quindi tra appunto l'unità dell'azione ma allo stesso tempo la varietà delle tematiche, tasso sostiene che il poema debba essere vario, ossia rappresentare più situazioni, ad esempio battaglie, amori, tempeste, siccità, eccetera. seppure tutto debba essere funzionale a un disegno unitario. In un passo della sua opera del 1594 intitolata Discorsi del poema epico, Tasso paragona la Gerusalemme liberata al mondo che presenta notevoli varietà di situazioni ma tutte soggiogate alla mente ordinatrice divina. in terzo luogo Tasso si vuole allontanare anche dallo stile medio tipico di Ariosto a vantaggio dello stile sublime. Lo stile deve avere aperte le virgolette lo splendore di una meravigliosa maestà chiuse le virgolette e questo era un proprio parole di Tasso. sempre Tasso dice che le parole devono essere peregrine ossia lontane dall'uso corrente e la sintassi aperte virgolette avrà del magnifico se saranno lunghi i periodi e lunghi i membri dei quali il periodo è composto chiuse le virgolette sempre nell'opera discorsi del poema eroico Tasso scrive che gli elementi di base del poema epico cavalleresco devono essere la autorità della storia e la verità della religione aggiunge poi che il poeta deve avere licenza del fingere e che il poema deve far risaltare la grandezza e nobiltà degli avvenimenti il mondo eroico infatti è per tasso il mondo della perfezione quindi anche il linguaggio che lo racconta deve essere illustro quindi parole chiave in questo ultimo paragrafo sono la autorità della storia la verità della religione il poeta che deve avere la licenza del fingere e il poema che deve far risaltare la grandezza e la nobiltà degli avvenimenti con un linguaggio illustre l'amore è la tematica più complessa ed è vissuta in maniera lacerante da un lato infatti è visto come peccato che seppur vinto dai valori religiosi per il modo in cui lo racconta Tasso mostra che in questo tema rimane un dissidio di fondo che non verrà mai risolto le storie dell'amore infatti hanno sempre un pathos tragico Tancredi ad esempio si innamora della guerriera musulmana Clorinda ed è condannato dal destino a ucciderla Armida invece si innamora di Rinaldo molto importante è il ruolo esercitato sul poeta dall'ambiente di corte quindi la corte degli estensi in cui si è formata la sua fantasia e modellata la sua vita la corte che è insieme amata e odiata respinta e ricercata in cui convivono il sogno di gloria e di felicità la corte come struttura che suggerisce alla poesia immagini di fasto e di grandezza e un modo particolare di intendere l'esistenza bene adesso due parole in particolare sulla Gerusalemme liberata nell'ottica del contesto storico della controriforma quindi ricordiamo che un anno dopo la nascita di Tasso era stato indetto il concilio di Trento tappa fondamentale della controriforma con cui la Chiesa manifesta la volontà di orientare gli intellettuali alla difesa dell'ortodossia cattolica contro le confessioni riformate il rinnovamento del tribunale dell'inquisizione e l'istituzione dell'index librorum proibitorum cioè l'indice dei libri proibiti contribuiscono a creare sia negli intellettuali sia nei governanti un clima di grande attenzione alla compatibilità con la fede cristiana delle opere circolanti e l'intellettuale cristiano in particolare inizia a sentirsi responsabile dei messaggi religiosi veicolati nelle sue opere sempre nello spirito della controriforma l'ideale dell'ortodossia religiosa prevale sugli ideali umanistici e rinascimentali di riscoperta del mondo classico e comporta la moderazione delle frivolezze contenute nelle opere e proprio questo clima quindi a plasmare la personalità complessa di Tasso che con la sua Gerusalemme liberata non intende solo intrattenere come abbiamo già visto ma anche educare i cristiani alla compattezza combattendo per difendere la propria fede dalle minacce sia esterne cioè i turchi sia interne cioè le spinte disgregatrici figlie della riforma luterana questo compito di sensibilizzare la comunità cristiana secondo lo spirito controriformistico è particolarmente sentito da Tasso che sottopone la sua opera al giudizio di ben otto revisori al fine di valutare la chiarezza del messaggio educativo per quanto riguarda i contenuti dell'opera i critici hanno osservato una contrapposizione tra la tematica eroica della crociata che vede il coinvolgimento morale dei personaggi e quella sentimentale con un susseguirsi di passione e di debolezze umane inoltre Tasso tenta di conciliare il classicismo con le moderne tematiche religiose tentativo che rappresenta il conflitto interiore dell'autore alla ricerca di un'unità da ritrovare prima in sé e poi nelle sue produzioni questo conflitto è dovuto anche alla fine delle certezze del rinascimento in un momento in cui era sempre più evidente il declino politico e culturale della società italiana a cui si aggiungeva la rigida chiusura imposta dalla restaurazione cattolica l'equilibrio tra peccato e redenzione tra passione e ideale sembra però un equilibrio irrealizzabile e questo fa prendere coscienza a Tasso del fatto che il potere dell'uomo e dell'intelletto è limitato da condizionamenti morali e metafisici questo si traduce in una profonda ansia nell'anima del poeta la stessa ansia che rende il mondo della Gerusalemme liberata così tormentoso e problematico bene questo video termina qui spero vi sia utile come sempre un sincero grazie per l'attenzione ciao a tutti e alla prossima grazie per l'attenzione